Buongiorno a tutti, allora proseguiamo con i nostri video notturni e andiamo a parlare dei primi due ottavi di finale del campionato del mondo femminile, perché si giocavano ieri Germania-Nigeria e Norvegia-Australia, una alle 17.30 e l'altra alle 21.00 o alle 23.00, dovrebbe essere. Comunque partiamo dalla partita che già in partenza era scontata, per di più alla prima occasione più o meno, dopo un buon inizio della Nigeria che ha fatto qualcosina, si è fatta vedere in attacco eccetera, senza creare nulla di eclatante, però sembrava tener bene il campo. Poi c'è stato questo calcio d'angolo, hanno dormito tutte, la poppa era lì bella, libera e felice come una Pasqua, colpo di testa, gol 1-0 e già lì la partita viene incanalata in una certa maniera. A proposito, magliettina della nazionale, proprio perché parliamo di nazionali eccetera. Proseguendo la partita, subito dopo c'è un rigore clamoroso, perché praticamente la giocatrice tedesca viene presa in pieno sul ginocchio dal difensore femminile della squadra nigeriana. Praticamente la palla lì se la stanno contendendo. La giocatrice nigeriana la manca completamente e c'entra in pieno al ginocchio della giocatrice tedesca. L'arbitro, la signora arbitra o la signora arbitro, come che dir si voglia, all'inizio lascia correre, poi viene avvisata dal barba a rivedere effettivamente la palla è lisciata completamente, il piede va secco sul ginocchio della giocatrice tedesca. Calcio di rigore che è la Dabritz, spero di averlo pronunciato giusto, segna in maniera impeccabile. Germania 2, Nigeria 0 e così finisce il primo tempo. Nella ripresa la Nigeria ci prova, ci riprova, almeno a riaprirla la partita. Poi, ahimè, su un rinvio sbagliato della difesa nigeriana, perché il pallone era in aria, la giocatrice l'ha allontanato. La Schullern è arrivata in di gran carriera, tiro bello preciso dal limite dell'aria, palla nell'angolino, 3 a 0 e partita finita. Cioè, era già un risultato più o meno scontato, mi sembra che ve l'avevo accennato anche quando in sede di pronostici, tra virgolette, degli ottali. Quindi Germania, Nigeria 3 a 0, tedesche che vanno felici e contente ai quarti. E adesso andiamo a vedere la partita invece molto più interessante, che infatti anche lì ve l'avevo detto in sede di pronostico, che è Norvegia-Australia. Partita bella, partita tra due squadre che hanno cercato entrambe di fare gioco. E la Norvegia, bisogna dire, che è passata in vantaggio per prime e stava assaporando anche la vittoria, perché c'è stata quest'azione qui, con un lancio lungo a tagliare la difesa. La Cannon Knight, se non sbaglio, Cannon Knight, si è lasciata scappare la Erlosen perché la palla gli è passata di fianco, l'ha presa in controtempo, la Erlosen gli è partita di fianco dalle sue spalle, ha preso il pallone, è entrata in area e ha battuto molto bene l'estremo difensore femminile, che era la Williams dell'Australia. Quindi Norvegia 1-Australia 0 e termina così il primo tempo, perché eravamo anche al 41esimo. Nella ripresa le due squadre hanno continuato a cercare, la Norvegia, di raddoppiare giustamente l'Australia, di pareggiare. La Kers è sbattuta per tutta la partita, ma aveva un po' le, diciamo come si suol dire, le polveri bagnate, ecco, per intenderci, mentre invece dall'altra parte c'era una Graham Hunter, io ho visto sulla maglia Graham, però la chiamavano Hunter, quindi Graham Hunter, che è la numero 10 della Norvegia, che è veramente, veramente forte. Anche se ogni tanto era talmente veloce rispetto alle sue compagne che doveva fare poi tutto da solo, da sola, da sola, e veniva spesso o anticipato, era costretta a tirare in non perfetto equilibrio, diciamo, perché comunque la Williams è stata brava sempre a parargli il tiro, ma lei era sempre costretta a velocizzarlo, perché era sempre circondata ad avversaria, come si liberava doveva tirare, e quindi è sempre brava l'estremo difensore femminile dell'Australia. Quando ormai sembrava ormai fatta, scusate il gioco di parole, c'è stato un calcio d'angolo per l'Australia, che appunto la Kellon Knight ha battuto, non era un cross, era un cross, sapete quei cross bassi che rimbalzano a terra, ecco, la palla passa, non la tocca nessuno e termina direttamente in rete, cioè è arrivata a giro sul primo palo, è passata in mezzo alle gambe dell'attaccante, del difensore della Norvegia, ma nessuno dei due l'ha toccata, ha preso in controtempo il portiere, l'estremo difensore femminile della della Norvegia, ed è terminata in rete, uno a uno, si va ai tempi supplementari. Ma prima dei tempi supplementari c'è un palo, c'è un palo, c'è un palo clamoroso della della Gran, perché dalla tre quarti campo, appena fuori aria, ha fatto partire un tiro a giro, la palla ha preso netto il palo, palo interno, ha attraversato tutta la porta e poi è uscita, e lì è il primo palo. Poi ce n'è stato un altro, durante i tempi supplementari c'è stata una traversa di una giocatrice della Norvegia, ha provato il tiro da casa sua e stava per sorprendere la Williams, perché la palla era palombella, la Williams era fuori dalla porta, ha preso secca la traversa per poi uscire fuori. Quindi la Norvegia già nei supplementari si è resa particolosa, per di più, quasi alla fine del primo tempo supplementare, la Kennedy per fermare la Gran, che era scatenata, l'ha stesa, l'ha trattenuta su un lancio lungo, la palla non ce l'aveva nessuna delle due, la Gran la stava inseguendo ma era a 3-4 metri dal pallone. La Kennedy l'ha trattenuta fuori area, l'arbitro ha deciso per il rosso, forse è stato un attimino eccessivo, però alla fine ha deciso per il rosso, quindi Australia deve giocare due minuti più gli altri 15 minuti dei supplementari in dieci, però riesce a reggere, la Williams spara tutto quello che c'è da parare, si va ai calci di rigore e lì c'è stata veramente l'apoteosi di non saper tirare i calci di rigore. La prima a tirarlo è la Graham Hunter per la Norvegia e lo segna, va la Kerr e lo tira al secondo anello, tocca alla Reiten per la Norvegia e lo segna, tutte e due nello stesso angolo, alla sinistra del portiere con la Williams che va a destra, la sinistra del portiere e la destra dell'attaccante per intenderci. Tocca la Jelnik con la Norvegia che ricordiamo avanti 2-0, la Jelnik deve cercare di cosa fa, lo tira alla sinistra sua, alla destra del portiere e l'estremo difensore femminile della squadra norvegese glielo para. Va la Milde a tirare per la Norvegia e anche lei lo segna stavolta nell'angolino opposto, ma ha tirato una mina, una mina rasoterra nell'angolino che non lo prende, ma neanche a Danovic lo prendeva un rigore del genere, quindi 3-0 per la Norvegia e tocca la Kadley per l'Australia che finalmente segna, segna, lo mette anche lei alla sinistra del portiere alla sua destra, quindi siamo sul 3-1, tocca la Engens e segna la Engen, la Norvegia è in quarti, la Engen non sbaglia, lo mette rasoterra anche lei alla sinistra del portiere, quindi calci di rigore che terminano con il 4-1 per la Norvegia sull'Australia e l'Australia che deve dire ciao ciao alla competizione, ma devo dire che globalmente vedendo anche le occasioni che ci sono state eccetera, la Norvegia ha sicuramente meritato e poi a questa Graham, che non so dove giochi, non ho guardato, però per quanto riguarda le squadre del nostro campionato, se non gioca in qualche super squadra dell'Europa perché sentivo che gioca tutte chi in Inghilterra, chi in Germania, chi al Paris Saint-Germain, in Francia, quindi tutte in squadre abbastanza importanti, se appunto la Graham non dovesse giocare in qualche squadra, ma temo che una forte così sicuramente giocherai in una big, un pensierino di portarla in Italia ce lo farei perché è veramente forte, viceversa la Kerr è un... io la chiamerei barattolo perché poverina è piccola, salta come un grillo perché ha un'elevazione da paura, però è ancora per me un po' grezzina ecco come giocatrice, spero non si offenda, si dà da fare, si sbatte a buona tecnica eccetera, però ogni tanto manca di quel qualcosa in più, cioè la Graham Hunter è un pochino meglio ecco, un pochino meglio. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio, vi informo che sono innamorato della Engen però ha 21 anni quindi guardare non toccare, è la numero 14 della Norvegia, se volete dategli un occhio, mentre invece nell'Australia è Caruccia la Carpenter, quella con la coda in lunga, io non ho coda purtroppo, ma anche le altre sono... ce n'è qualcuna Caruccia sì dai, ma tendenzialmente è stata diciamo la partita della... delle gnocchine dai, bisogna anche dirlo, anche l'estetica vuole la sua parte, qualcuna è un po' più mascolina tra virgolette, spero sempre che non si offendano, ma qualcuna è anche molto Caruccia diviso eccetera, vabbè. Detto questo a noi interessa come giocano e devo dire che questi campionati del mondo femminile pensavo... pensavo peggio invece devo dire che le ragazze giocano più che discretamente bene ecco per intenderci, poi qualcuno mi dice io mi annoio, io mi stanco, a me non piace, vabbè, alzo le mani e non dico nulla. Tanto vi saluto, vi ringrazio e adesso mi appresto a fare il video per le prime due gironi della Coppa d'Africa. Per quanto riguarda invece la questione del campionato brasiliano, la Coppa America, ne parleremo con comodo tra domenica e lunedì perché voglio aspettare che si giochino le altre due partite del girone, dell'alto girone, in modo da farne quattro. Ciao!